Il Parco archeologico del Colosseo da mesi nel vortice delle polemiche sulla gestione dei biglietti nominali, l'ultima ieri tra l'assessore onorato e il ministro San Giuliano, comunica di aver firmato il contratto di servizi con il nuovo gestore della biglietteria che è CNS, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Il contratto avrà una durata di 48 mesi dal 1 febbraio 2024, considerati i mesi utili per il passaggio di consegne tra l'attuale concessionari e il nuovo gestore. Dopo 27 anni si cambia dunque non più una concessione ma un appalto di servizi. Saranno inoltre potenziati i canali di vendita sia tramite call center che sul posto con sistemi smart quali la presenza di operatori in divisa ufficiale dotati di tablet per l'acquisto istantaneo dei biglietti ma anche macchine automatizzate di vendita. All'insegna della trasparenza e dell'efficienza saranno infine posizionati schermi led nella piazza del Colosseo con informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei biglietti, il tempo d'attesa e il costo ufficiale al pubblico dei titoli di accesso.